Salve, mi rivolgo a molti utenti di YouTube, a quelli che cercano soprattutto l'intrattenimento su YouTube, quindi a ragazzi, ragazze, giovani, anche meno giovani, che cercano su YouTube solo di svagarsi. Allora, è chiaro che svagarsi è anche giusto, è bello, ma fare solo questo, cercare su YouTube solo questo, vi fa perdere un'opportunità incredibile. Voi andate a cercare questi contenuti di svago, di divertimento, e basta, perché credete che non ci sia nulla di più interessante. E vi sbagliate di grosso, vi sbagliate completamente. Ci sono dei contenuti che voi neanche immaginate, perché voi credete, voi credete che ci sia nella fantasia qualcosa di più interessante rispetto alla realtà. Invece no. La realtà supera infinitamente qualunque immaginazione. Voi non avete minimamente idea di quale sia la vera struttura e natura della realtà, la vera condizione nella quale ci troviamo. Se siete interessati, se avete questo interesse e non sapete però indirizzarlo in modo migliore su YouTube che andando appunto, se non andando appunto a guardare video che lasciano il tempo che trovano, perché sì, saranno belli, divertenti, e in alcuni casi, in altri casi non sono neanche né belli né divertenti, sono solo perdite di tempo. In altri casi sono addirittura volgari alcuni dei video che vengono visualizzati più di tutti. Ecco, se invece avete questo desiderio, sappiate che questo canale, e non è l'unico, può offrirvi degli spunti interessantissimi. Grazie a tutti.